Ciao, sono Marco del negozio Passport. Mi è appena arrivato il corriere e mi ha consegnato una cosa che mi ha folgorato appena l'ho vista e la prima cosa che ho pensato è stato non posso non fare il video di questa scarpa. Andiamo a vedere assieme di cosa si tratta. Ok ragazzi, penso di interpretare il vostro pensiero, vale a dire ma che senso ha fare la recensione di una scarpa che già da parecchi mesi è presente sul mercato? Ed è proprio questo il punto, proprio per questo motivo perché è una calzatura che già è presente sul mercato da un po' di tempo che abbiamo avuto ottimi feedback. Secondo motivo perché stiamo parlando di una calzatura veramente iconica e storica in casa Adidas e terzo ma non ultimo motivo perché secondo me questa scarpa vale la pena essere presentata perché magari è molto conosciuta dal pubblico degli addetti ai lavori ma forse non è ancora così famosa come forse come meriterebbe dal pubblico più ampio. Ed ecco il motivo di questo video. Partiamo con alcuni dati tecnici di questa scarpa, anzi partiamo dall'imballaggio perché Adidas assieme a tante altre aziende sta portando avanti una politica di ecosostenibilità nella realizzazione dei loro prodotti a partire dagli imballaggi ad arrivare alla tomaia, alle parti dell'intersuola e del battistrada. L'obiettivo è quello di togliere e recuperare quanta più plastica possibile per rendere il nostro mondo ovviamente più vivibile e magari migliore. Dicevamo dati tecnici e allora andiamo al sodo. Parliamo di una calzatura A2, scarpa intermedia, con un drop di 8 mm e un peso di 240 grammi nella versione uomo. Nella versione donna andiamo ad alleggerirla di circa 20-25 grammi. Per quanto riguarda la tomaia parliamo di una tomaia appunto realizzata con un mesh monofilo senza cuciture, con una tramatura che però dà contenimento al piede e allo stesso tempo ottima leggerezza. Vorrei anche sottolineare l'importante spazio che c'è sulla parte dell'avampiede per alloggiamento delle dita. Infine la parte tallonare abbiamo una zona di contenimento del tallone che è morbida ma allo stesso tempo contiene bene il tendine e lo stabilizza per poter correre veramente alla grande. Per quanto riguarda l'intersuola invece abbiamo l'utilizzo di due mescole distinte che sono la mescola Light Strike che è posizionata appena sotto il piede e la mescola Boost, la famosa mescola di Adidas. Questo connubio di questi materiali fa sì che questa scarpa sia ammortizzata ma allo stesso tempo molto reattiva e molto veloce. Infine per quanto riguarda il battistrada notiamo l'utilizzo del sistema torsio nella parte mediale della scarpa e l'utilizzo appunto del battistrada della mescola gomma Continental che serve a garantire un ottimo grip in tante situazioni climatiche anche avverse. Come dicevo all'inizio il motivo di questo video è per far conoscere questa calzatura a D0 Boston 9 ad un pubblico un po' più ampio che non siano solo gli addetti ai lavori. Il secondo motivo devo essere sincero è che appena ho aperto gli scatoloni e ho visto questa colorazione mi sono illuminato. L'ultimo motivo è un motivo un po' storico ed è legato anche la mia carriera di venditore perché ragazzi devo essere sincero da quando faccio questo lavoro e parliamo ormai più di vent'anni il modello Adidas Boston l'ho praticamente sempre visto. Devo essere altrettanto sincero che nel corso degli anni questa calzatura ha avuto degli alti e dei bassi ci sono state delle versioni più fortunate e altre un po' meno fortunate però in tutta onestà visto che anche questa versione la D0 Boston 9 è già da qualche mese che è presente sul mercato devo dire la verità è una scarpa veramente realizzata bene. È una calzatura veramente facile da usare perché ha delle caratteristiche di costruzione della tomaia che danno veramente un gran comfort e delle caratteristiche di costruzione dell'intersuola che garantiscono il giusto quanto basta di ammortizzamento ma allo stesso tempo veramente una gran spinta una fase di propulsione sull'avampiede che lascia direi senza fiato per ovvi motivi Adidas Reserve Boston 9 non è la calzatura che si possa utilizzare negli allenamenti quotidiani per ritmi attorno ai 5 anche di più al chilometro il suo range il suo target di utilizzo è sui 4 e 15 e anche più veloci su questa velocità al chilometro direi che questa calzatura dà veramente il meglio di sé tant'è vero che è una scarpa che proponiamo e dalla quale abbiamo avuto e abbiamo tuttora ottimi feedback dai ragazzi che utilizzano anche in pista per fare gli allenamenti quando non utilizzano le chiodate oppure da chi le usa per fare mezzo fondo sia in pista che sulla strada su distanze dai 5 ai 10.000 tanto sui 10.000 e perché no fino alla mezza maratona è una scarpa con cui ci si può veramente veramente divertire inizialmente abbiamo detto che volevo far conoscere questa scarpa ad un pubblico più ampio l'obiezione che tutti voi potreste farmi è dire ma se hai detto che una scarpa veloce il pubblico più ampio a chi ti riferisci mi riferisco al pubblico dei camminatori sempre di più sono le persone che si avvicinano a questa pratica sportiva e sempre di più sono le persone che iniziano a cercare prodotti tecnici che abbiano delle caratteristiche peculiari non da sottovalutare ecco perché a mio personale avviso a di zero boston 9 può essere la calzatura indicata per tanti tipi di camminatori perché è il giusto compromesso fra ammortizzamento e reattività sull'avampiede e perché ha un'ottima flessibilità appunto dell'intersuola sulla parte dell'avampiede che consente di avere un passo sicuro e stabile in fase di appoggio ma allo stesso tempo è una scarpa che ti fa percepire il terreno e quindi chi cammina pensando al gesto che sta facendo questa calzatura lo può accompagnare veramente in camminate di qualità e di soddisfazione spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto come dico sempre vi sia stato utile per le vostre future scelte se avete dubbi o domande i commenti qui sotto sono a vostra disposizione vi rispondiamo velocemente e speriamo in maniera esaustiva se avete piacere di venire a trovare nei nostri negozi rispettiamo a busche o a signoressa e se abitate lontano perché no potete utilizzare anche il nostro sito www.passport.it ciao